Riflettori sulle aste giudiziarie è stato questo uno dei temi trattati a studio sera. Tra gli ospiti di Norberto Vitale è anche lo storico imprenditore solofrano Domenico Giliberti che su Malgrado fa parte di quelle centinaia di cittadini italiani che ogni giorno vedono finire all'asta i propri beni. Si è manifestata come abbiamo detto nella trasmissione dell'11 ottobre una crisi macroeconomica che si è paventata su Solofra che la globalizzazione ha raso solo Solofra, quindi sono motivi macroeconomici. Nel microeconomico abbiamo subito altri fenomeni che noi abbiamo provveduto a denunciare con le nostre equip di avvocati e commercialisti e poi c'è il discorso che noi siamo rimasti in sella e abbiamo preferito non chiamare subito lo Stato per dichiarare lo Stato di crisi ma mettere tutto quello che noi avevamo nella nostra azienda che oggi è stata valutata temporaneamente con questa offerta. Io voglio riprendere un ragionamento che in tanti anni ho ripreso tra me e me perché studiando anche politica si studiano le norme e quindi si riesce a capire anche qualcosa di giustizia. Quando si dice che il processo telematico è per i creditori, ma noi debitori un gesto e cammini, il mio patrimonio di 12 milioni tra le righe valutate in quel momento di mercato che oggi è arrivato a 800 mila euro e alla mercè, su giusta ragione, su una legge che è fatta così, di un creditore che è compulsa e che arriva non mi interessa lo viene industriale, non mi interessa della tua lealtà, non voglio aspettare tempi tra le righe, lo dico terra a terra perché poi sono imprenditore della strada, ma onesto, che preferiamo frequentare i salotti. Allora, liquidiamolo, così si fa. Non penso che, non calza questo esempio perché c'è anche un articolo del codice di protezione civile che parla che il processo esecutivo a un certo punto, i miei valori nel mio caso sono scesi del 93-94%, a un certo punto l'asta va estinta. Tra poco vedremo dei dati molto significativi. E se l'imprenditore della cittadina della Concia preferisce affermarsi qui, proseguono invece senza sosta le indagini relativi all'inchiesta della DDA sul cosiddetto nuovo clampartegno. Gli inquirenti hanno infatti disegnato proprio sulle aste immobiliari uno spaccato inquietante. Negli atti si parla di speculazioni immobiliari illecite, di ville, capannoni e industriali. Le persone alle quali sono stati pignorati i beni e che provano a tornarne in possesso sarebbero stati avvicinate. Gli indagati praticamente avrebbero mostrato l'interesse verso l'asta ma avrebbero anche fatto sapere di poter rinunciare in cambio però di 5-6 mila euro, somma da corrispondere con assegno circolare. In altri casi i beni sarebbero stati invece acquistati e subito rivenduti con guadagni fino a 50 mila euro. Secondo gli inquirenti le aste in alcuni casi venivano definite prima di essere battute. Uno spaccato davvero inquietante, tutto però da accertare attraverso le indagini che sono in pieno svolgimento.